La FIAB Frosinone è contraria alla riapertura del traffico veicolare a Via del Casone, nella zona bassa del capoluogo. Il rispetto dell'ambiente e della salute rientrano nelle finalità della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Via del Casone, commenta l'associazione, è un piccolo tratto di strada attorniato dal verde, collega la villa comunale alla Montilepini. È spesso transitata da persone che fanno una passeggiata a piedi, che si dedicano alla corsa o transitano in bicicletta, perché altri percorsi fruibili non ci sono, a meno che non si faccia una fuga tra i campi o attorno al Casaleno. Insomma, Via del Casone è uno dei pochi posti della città capoluogo dove si può respirare. Un tempo vi sorgeva anche una pista di pattinaggio, oggi in totale abbandono, con ringhiere arrugginite e le pattumiere gettate da chi ancora non ha capito che la differenziata contempla anche gli altri scarti. Quel posto adeguatamente recuperato potrebbe essere un altro piccolo parco, una sorta di appendice della villa comunale. Inoltre, Via del Casone va a ricondursi alla pista ciclabile dei Cavoni, dodata di bike sharing, pertanto potrebbe esserne il naturale prolungamento. E a proposito dei Cavoni, chi vive in questo quartiere conosce molto bene le strade per raggiungere il centro, via Casilina e via Cicerone, via Tommaso Landolfi, via Piave, quelle più vicine, e la pratica abitualmente senza drammi particolari, se non delle ore di punta massima. Aprire via del Casone, continua la FIAB, vuol dire consegnare all'automobile un'altra strada, aggiungendo ulteriori sostanze inquinanti nell'area cittadina. E l'iniziativa ci sembra in netta contraddizione con le politiche di risanamento ambientale che l'amministrazione comunale di Frosinone ha annunciato e che prevedono la realizzazione di piste ciclabili e parchi verdi.